Buongiorno a tutti, io sarò brevissima, voglio soltanto salutarvi, ringraziarvi, sono felicissima di praticamente esiglare questo rapporto di collaborazione tra le associazioni, quindi sono felicissima proprio perché più siamo, più cose possiamo fare. Abbiamo l'obiettivo comune che è quello della tutela e della valorizzazione della nostra cultura, di questa minoranza e spero di fare veramente tante tante belle iniziative, quindi collaborare, aiutarci, fare rete, scambiarci idee, iniziative e creare un po' di movimento, quindi in questo piccolo paese, in questo piccolo splendido borgo, vediamo se riusciamo a fare qualcosa che segna, che resta e che possa attrarre, insomma dobbiamo trovare il modo per diventare un po' più attivi, farci conoscere, farci vedere, insomma portare il nome di questo splendido paesino un po' più in alto, vediamo un po', quindi imboccano un po' a tutti e a tutti quanti, grazie. 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 Grazie.